Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial per Tableau. Oggi andremo a fare una simulazione di una breve visual analytic soffermandoci sul concetto di dimensioni, misure e le aggregazioni e per farlo utilizzeremo il file sample superstore Europa cliccando direttamente qua, in basso a sinistra, nei data source salvati. In questo modo ci si aprirà una versione del nostro file d'esempio in cui sono già stati salvati tutti i metadati quindi ci sono tutte le cartelle in cui sono stati suddivisi i dati e se erano state impostate anche le default properties sono già impostate. Quando si inizia a fare un'analisi dei dati esistono due approcci. Un primo approccio è quello se già abbiamo delle domande a cui vogliamo rispondere prendere i dati e cercare di trovare le risposte a queste domande altrimenti possiamo anche semplicemente aprire i dati e iniziare ad esplorarli per vedere se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Possiamo ad esempio voler vedere l'andamento delle vendite nel tempo doppio clic su sales e vedete che ci viene mostrata una barra che riporta il totale delle vendite e se poi facciamo un doppio clic sulla data dell'ordine vediamo che il mark cambia automaticamente in linea e noi possiamo vedere l'andamento delle vendite nei 4 anni. Come avete potuto vedere la mia barra iniziale si è trasformata in una riga nel momento in cui ho aggiunto anche la data dell'ordine e questo succede perché Tableau ha scelto automaticamente per me quale fosse il miglior mark da utilizzare. Infatti se vedete qua nel menu a tendina ho l'icona della linea e c'è scritto di fianco automatic posso in qualsiasi momento cliccare e scegliere un mark differente ma se lo lasciamo su automatic dobbiamo ricordarci che è possibile che il mark cambi man mano che noi aggiungiamo degli elementi all'interno del foglio di lavoro. Se ad esempio io adesso prendessi la categoria e l'affiancassi nelle colonne accanto all'anno dell'ordine vediamo che il mark mi cambia e ritorna a essere una barra. Se invece io avessi scelto proprio di mia spontanea iniziativa la linea pur andando a mettere la categoria accanto all'anno il mio tipo di grafico non sarebbe cambiato. Apriamo adesso un nuovo foglio e supponiamo di voler studiare la relazione tra le vendite, di doppio clic sulle vendite, e il profitto. Tableau ci crea un grafico a dispersione. Abbiamo un solo punto che corrisponde alla somma di tutte le mie vendite e alla somma di tutti i miei profitti. Questo perché quando noi inseriamo una misura all'interno del nostro grafico Tableau automaticamente sceglie un'aggregazione che di default è settata su somma che possiamo cambiare in qualsiasi momento cliccando sul tasto destro e scegliendo una delle aggregazioni proposte. In un tipo di grafico come il grafico a dispersione, avere ovviamente qui un solo punto non è che ci interessi più di tanto. Possiamo fare due cose, possiamo andare a disaggregare totalmente la nostra area di lavoro quindi andiamo su analisi e tiriamo via il check da aggregate measure e vediamo che in questo modo praticamente tutti questi cerchi che noi vediamo sono tutte le righe del nostro database. altrimenti se non vogliamo disaggregare le nostre misure dovremo andare a spezzare il grafico inserendo una dimensione. e questa è una cosa molto importante perché se io adesso per esempio inserissi la categoria nel colore vediamo che i miei cerchi da 1 diventano 3 questo perché io praticamente sono andata a spezzare il grafico con una dimensione che contiene soltanto 3 voci le misure vengono infatti aggregate di default in base alla granularità dei dati di livello del dettaglio che è stabilito dalle dimensioni se io adesso inserissi qui una dimensione che ha livello di granularità più dettagliato ad esempio l'order ID potrebbe essere che io ho una linea nel mio database per ogni ordine che è stato fatto se io inserisco un'order ID qui vedete che il grafico praticamente è uguale molto simile a se io vado a disaggregare le mie misure perché ho scelto un livello di granularità molto più simile alla disaggregazione totale quindi se io non inserisco nessuna dimensione all'interno del mio grafico avrò la somma dei profitti e delle vendite se io inserisco una dimensione come ad esempio la categoria avrò la somma della categoria Forniture la somma della categoria Office Supplies e la somma della categoria Technology se poi vado ad inserire magari negli shape il metodo di spedizione vediamo che il numero di mark aumentano di nuovo se guardiamo qua in basso abbiamo scritto che abbiamo 12 mark infatti 4 dello ship mode per 3 delle categorie in questo esatto istante le nostre misure sono aggregate per ogni coppia di modalità di spedizione tipo di categoria quindi avrò la somma di Sales e Profit per First Class e Forniture per First Class e Office Supplies per First Class e Technology stessa cosa per la seconda metodologia di spedizione avrò la somma per Same Day e Forniture Same Day e Office Supplies Same Day e Technology e via via fino ad andare a creare i 12 accoppiamenti che vediamo scritti qua sotto se vogliamo cambiare ad esempio la dimensione con cui andare a colorare il nostro grafico possiamo ad esempio prendere il segmento e trascinarlo sopra categoria in questo modo verrà sostituito automaticamente e vediamo che abbiamo sempre 12 mark anche perché il segmento contiene sempre 3 voci come la categoria però si sono spostati di posizione rispetto a prima perché stiamo andando a vedere dei dati diversi se vogliamo aggiungere una dimensione nel nostro grafico senza attribuirgli un colore o una dimensione o una forma possiamo semplicemente prenderla ad esempio prendiamo il Customer Name e lo mettiamo in Detail in questo modo andremo ad aggiungo, a spezzare l'aggregazione del nostro grafico con dati che non vanno a cambiare il colore, la dimensione o gli shape già inseriti altra cosa interessante quando stiamo diciamo un po' così esplorando i nostri dati senza un obiettivo ben definito è l'utilizzo del pannello Show Me questo pannello in realtà diciamo che dovrebbe essere utilizzato come un punto di partenza non proprio come una soluzione che ci crea i grafici al posto nostro infatti adesso se creiamo un nuovo foglio porto il pannello qua vicino alle dimensioni misure vediamo che se io inizio a selezionare delle dimensioni e delle misure tenendo premuto CTRL per selezionarle più di una vediamo che man mano che io seleziono nel pannello tutte quelle icone grigi iniziano a colorarsi e una di quelle che si sono colorate è cerchiata di azzurro quelle colorate sono tutte le visualizzazioni sono tutti i tipi di grafico che diciamo possono essere utilizzati col tipo di dato che abbiamo scelto quella cerchiata in azzurro invece è la migliore la migliore visualizzazione che Tableau ci propone ovviamente io scelgo un'altra misura abbiamo ci viene riproposto il grafico a dispersione una volta che abbiamo scelto di farci tra virgolette aiutare dal pannello show me ovviamente possiamo in qualsiasi momento cambiare le cose che sono state fatte possiamo ad esempio scegliere un cerchio possiamo aumentare la dimensione possiamo dirgli che sì te lo vogliamo nel color quindi diciamo è una sorta di suggerimento se magari siamo a corto di idee non abbiamo la più pallida idea di come di quale sia il modo migliore per studiare dei dati che magari non conosciamo allora possiamo utilizzare questo pannello però come appunto dicevo deve essere preso un po' come uno starting point magari all'inizio dei grafici un po' difficili si sceglie lo show me per andare a vedere dove è andato a posizionare dimensioni misura all'interno del grafico dopo 3-4 volte che si utilizza uno lo impara e non ha neanche più bisogno di utilizzarlo bene il tutorial è finito ci vediamo al prossimo ciao